Il progetto nasce dall'esperienza che la Regione ha accumulato nel corso degli anni partecipando soprattutto a parecchi progetti multiregionali insieme con altre realtà europee e nell'ambito di questi progetti studiando il tema del paesaggio nelle sue varie accezioni. Negli ultimi anni l'analisi si è concentrata sui temi del paesaggio periurbano, vale a dire il paesaggio fra centro e periferia, centro e zone rurali laddove possono esserci delle criticità sulle quali intervenire poi con le politiche del paesaggio, quindi l'analisi che noi abbiamo fatto è servita alla Regione per poi operare e agire concretamente nelle aree periurbane del territorio regionale. In particolare con l'attuale fase di programmazione comunitaria europea stiamo investendo finanziamenti dell'Europa per intervenire in 17 aree comunali, aree vaste, facendo gli interventi proprio di rivitalizzazione e funzionalizzazione del paesaggio.